Ciao sono Antonio, imprenditore digitale, in questo video parliamo di self publishing e quindi è dedicato a tutti coloro che vogliono iniziare a fare self publishing oppure anche a chi ha già iniziato e vuole capirne di più, vuole vedere se anche il mercato italiano magari può essere interessante. Quindi cerchiamo di capire questo, se conviene o meno vendere e pubblicare dei libri nel mercato di Amazon.it. Allora sicuramente che cosa mi sento di dire, specialmente a chi sta iniziando adesso, che se voi non avete ancora iniziato il self publishing e volete veramente andare a guadagnare, volete avere delle royalties consistenti, dovreste partire quantomeno dal mercato americano, quindi dalla pubblicazione di libri su Amazon.com. Questa è la cosa migliore, quindi andare a trovare una parola chiave, una keyword e quindi un argomento di un libro che è molto richiesto in modo tale da avere praticamente quell'entrata fissa mensile da parte delle vendite dello specifico libro, così appunto da avere intanto questo introito e poi magari potreste pensare di pubblicare dei libri in italiano perché appunto questa sarebbe la cosa migliore. Poi ovviamente se voi avete già dei libri pronti in italiano, che ad esempio avete scritto voi stessi o altro, allora ovviamente volendo potete anche pubblicare quei libri, quindi potete fare questa cosa anche in contemporanea se appunto questa è la vostra situazione. Se voi però volete far creare un libro da zero ad un ghostwriter, allora la soluzione migliore sicuramente non è quella di partire dal mercato italiano perché appunto andreste ad investire dei soldi per poi avere un ritorno economico decisamente molto più basso rispetto a quello che potreste avere partendo dal mercato americano. Anche perché se voi ci pensate, se voi andate a pubblicare il libro nel mercato italiano, il libro è scritto in inglese, quindi volendo potete andare a fare acquistare il libro non solo ad americani ma anche insomma ad altre persone insomma che sono canadesi, del Regno Unito eccetera eccetera, quindi avete anche questo vantaggio sicuramente molto importante. Quindi ovviamente abbiamo come lato negativo invece di pubblicare in un mercato come quello americano, di avere tanta competizione, insomma di avere anche delle nicchie che sono molto colpite, insomma che ci sono tanti self publishers, quindi ci sono mercati saturi ma noi dobbiamo essere bravi nel trovare quelle parole chiave che invece possono essere sfruttate al nostro vantaggio per andare poi a guadagnare. Quindi questa sarebbe la cosa migliore, insomma diventare dei top seller per una data nicchia e quindi così potremo avere veramente delle entrate consistenti. Mentre per quanto riguarda il mercato italiano appunto io lo andrei ad usare magari per chi già fa self publishing da un po' di tempo e già dei libri che vanno bene nel mercato americano e quindi magari vuole aggiungere quell'entrata passiva aggiuntiva pubblicando anche dei libri scritti in italiano. Anche perché se noi abbiamo anche un libro stesso che è già pubblicato nel mercato americano ci basta solo tradurlo non per forza farlo scrivere da zero ad un ghostwriter e quindi una volta che è tradotto o da noi oppure da un traduttore professionista anche ci costa poco la traduzione rispetto alla scrittura da zero. Possiamo pubblicare il libro appunto anche nel mercato italiano e quindi poter avere anche quelle entrate insomma da questo mercato che comunque è più emergente. Ovviamente abbiamo meno competizione ma abbiamo anche meno vendita insomma ci sono sicuramente meno acquirenti in questo tipo di mercato anche dovuto insomma alla mentalità delle persone. Insomma magari non sono ben predisposte all'acquisto di libri online insomma specialmente ci sono molte persone che si potrebbero andare ad acquistare magari un formato fisico e cose del genere ma sicuramente andare a proporre un libro anche in formato kindle quindi in formato digitale ad un italiano è ben diverso rispetto a proporlo a qualcuno che è americano. Insomma sono più invogliate ad acquistarlo in quel dato paese piuttosto che nel nostro diciamo non c'è ancora questa cosa di comprare un libro digitale che noi magari ce lo vediamo sul tablet sul kindle quello che è ovviamente c'è chi lo fa ma comunque appunto non è cosa molto usuale. È chiaro che poi magari la cosa andrà sempre di più sdoganando quindi appunto se pubblichiamo dei libri poi questi potrebbero farci guadagnare sempre di più anche in un mercato come quello appunto italiano perché appunto una volta che si va espandendo possiamo sempre di più essere dei top venditori per quel tipo di mercato per quel dato argomento che abbiamo selezionato. Però appunto non è ancora questo il momento quindi è bene invece andare a generare delle entrate con il mercato che tuttora è florido e che effettivamente funziona molto bene insomma quindi quella sarebbe la soluzione migliore a mio avviso. Quindi se facciamo una comparazione anche dei possibili guadagni da un mercato e dall'altro con un mercato americano sicuramente possiamo avere delle royalties mensili da parte di un libro solamente anche di 2.000 3.000 6.000 dollari appunto al mese mentre nel mercato italiano ci possiamo aspettare anche solo 100 200 massimo massimo 500 euro mensili ma comunque appunto è anche difficile da andare a trovare una nicchia che ci permette questo quindi nella maggior parte si tratta di poche centinaia di euro al mese se non neanche di meno quindi proprio a secondo ovviamente anche della determinata parola chiave che noi andiamo a scegliere e poi anche dipende proprio dal marketing che facciamo dipende da quante pagine è composto il dato libro eccetera eccetera. Quindi con questo video spero di aver chiarito eventuali dubbi e poi se volete potete accedere a self publishing domination che è il mio percorso di formazione che trovate nel link in descrizione oppure nel primo commento in evidenza dove c'è appunto questo corso che vi spiega passo dopo passo in maniera pratica come svolgere per bene un business di self publishing e quindi da lì potete capire nel dettaglio come fare ogni cosa tramite le lezioni e poi se avete bisogno di aiuto c'è sempre il supporto dove potete parlare direttamente con me e quindi appunto se avete bisogno tranquillamente ci sono e nessuno viene abbandonato a se stesso quindi questo senza ombra di dubbio è una garanzia che offro proprio per quanto riguarda gli studenti del mio corso. Comunque con questo appunto direi di aver detto tutto e noi come al solito ci vediamo dentro self publishing domination.